Amici Trebimeteo, un saluto da Luca Pace e benvenuti a questo aggiornamento delle nostre previsioni per la giornata di sabato. Da notare l'alta pressione che domina la scena su gran parte d'Europa e le perturbazioni atlantiche che rimangono ai margini, quindi confinati sugli stati più settentrionali oppure in aperto oceano. Andiamo a vedere quindi per quanto riguarda la nuvolosità, cosa attenderci? Un inizio di giornata con veramente poche nubi, una totale assenza di nubi su tutto il territorio nazionale, da segnalare tuttavia nel corso del pomeriggio una tendenza all'aumento della nuvolosità a partire dai settori occidentali e poi avremo le nubi che tenderanno nel corso della sera e della notte ad invadere gran parte del centro nord. Bene, in definitiva ecco la previsione per la giornata di sabato, poche nubi un po' su tutta Italia da nord a sud, in particolare al mattino, poi una tendenza all'aumento della nuvolosità come detto a partire dai settori più occidentali. Da segnalare la possibilità di nebbie, in particolare nelle primissime ore della mattinata lungo il corso del Po e sulle vallate interne del centro. Le temperature rimarranno ancora gradevoli decisamente un po' su tutta Italia con massime che torneranno a toccare i 25-26 gradi al centro-sud. Bene, per questo aggiornamento è tutto, vi ricordo per ulteriori dettagli di scaricare e consultare l'app gratuita di Trebi Meteo.